Nelle farmacie toscane ora si possono prenotare visite specialistiche, si può pagare il ticket e attivare la tessera sanitaria. Lo prevede l'accordo di collaborazione, valido fino al 2020, firmato a Firenze da Regione Toscana. Aziende sanitarie Urtofar e Cispel Toscana, 6 milioni mesi a disposizione dalla Regione per un servizio che dopo la fase sperimentale avviata nel luglio 2016 diventa sistema. Sono già 900 le farmacie che hanno aderito su 1.200 presenti in tutta la Toscana, 1.000 private e 200 pubbliche. Ci consente di identificare sempre di più le farmacie come presidi sanitari sul territorio, sempre di più le farmacie come luoghi dove si prestano, anche servizi oltre a fare la normale attività commerciale che ogni farmacia deve fare. Per la prenotazione di esami e pagamento di ticket basta presentarsi in una delle farmacie aderenti con la ricetta o il promemoria del medico. Obiettivo? Fare delle farmacie, sia pubbliche che private, un punto di riferimento per i cittadini ovunque in Toscana. Le farmacie sono a disposizione come strumento del servizio e come presidio del servizio sanitario proprio per far sì che anche a livello culturale, ad esempio sulle vaccinazioni, possa essere diffuso il giusto messaggio. Questo del CUP è uno dei passaggi ma come quello delle vaccinazioni ce ne sono molti altri. Le ASL forniranno alle farmacie tutti gli strumenti necessari a erogare i servizi, compresa l'attivazione della tessera e del fascicolo sanitario elettronico. L'accordo stabilisce anche gli standard di erogazione dei servizi con modalità ben definite. Prevedendo 25 ore di servizio minimo tra spalmate tra lunedì e il venerdì, tra mattina e pomeriggio e il 50% degli aderenti di fatto stanno andando oltre anche questo servizio minimo garantito. Intanto la regione, ha detto l'assessore Saccardi, aumenterà le risorse a disposizione delle farmacie che si trovano in luoghi disagiati dove i servizi sono erogati con maggiore difficoltà.